buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde del 30 marzo 2022 oggi parleremo del decreto legge 24 il 24 marzo 2022 e le regole anti covide per la scuola cosa cambia per la scuola questo decreto legge che si rende esecutiva a partire dall 1 aprile prima domanda da domani un aprile a scuola resta l'obbligo per tutti di indossare la mascherina ffp2 come è accaduto nei mesi precedenti per quanto riguarda la gestione dei casi positivi in classe per tutti i cicli di istruzione dunque primaria secondaria di primo e secondo grado infanzia eccetto per i bambini di te inferiore se a dunque per l'infanzia per tutti coloro che hanno inferiore dei sei anni scatta l'obbligo della mascherina ffp2 dopo la quarta positività nello stesso gruppo nella stessa classe resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine la mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto tipicamente scolastici e deve essere una mascherina ffp2 fino al 30 aprile 2022 la mascherina non va indossata durante le attività sportive domanda numero due con le nuove regole dettate dal decreto legge 24 del 24 marzo del 2022 resta l'obbligo vaccinale per i docenti e il personale ata la risposta è assolutamente affermativa l'obbligo vaccinale per il personale scolastico resta inalterato quello che invece cambia è la sanzione al personale scolastico non vaccinato non si applicherà più la sospensione dal servizio ma resterà una sanzione solamente di ordine pecuniario solo per i docenti invece oltre a subire la sanzione pecuniare di 100 euro non potranno fare rientro nelle classi fino al termine delle lezioni ovvero fino al 15 giugno 2022 dunque i docenti non potranno andare a contatto con gli alunni i docenti diversamente da tutto l'altro personale della scuola saranno trattati come se fossero docenti temporaneamente in idonea all'insegnamento e quindi adibiti ad altri compiti chiaramente il decreto legge sugli altri compiti li allarga anche a compiti funzionali all'attività didattica dunque gli organi collegiali la partecipazione agli organi di classe eventualmente o comunque sia anche a progettazione di natura didattica a funzioni strumentali e quant'altro cosa accade nelle classi della scuola secondaria se ci sono casi di possibilità tra gli studenti gli alunni e gli alunni delle scuole primarie secondari di primo grado secondari di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento per infezione da covide possono seguire le attività l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata come è stato fatto fino adesso su richiesta appunto delle famiglie o dell'alunno maggiorenne nel caso sia appunto di maggior età accompagnata da specifica certificazione medica che attenti la condizione di salute di salute dell'alunno la riammissione in classe subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo gli altri studenti a prescindere dal loro stato vaccinale rimarranno in presenza rimarranno in presenza nel caso anche di almeno quattro casi di positività tra l'alunni e alunni le attività dunque proseguiranno in presenza per docenti e studenti che abbiano superato i sei anni di età e previsto appunto l'utilizzo delle mascherine ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo grazie 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 grazie